Ciao domi e Pilates, benvenuta alla lezione di Pilates sottile. Cosa ci serve? Vediamo un po' di roba addosso. Allora, un cuscino, che è abbastanza spesso, ormai lo conoscete, che aveva un certo spessore. Due palline da tennis, se proprio siete sprovviste di palline da tennis, magari avete quelle fatte a riccio, vanno bene. Se proprio non ci sono palline, neanche quelle dei vostri amici animaletti, eccetera, utilizzate il cuscino. L'ideale sarebbe una cosa così, appunto due palline, ecco. Una fascia elastica, è tutto materiale di recupero, sicuramente li trovate in casa, non serve proprio il libro di fisiologia dello sport, ma un tomo simile che abbia uno spessore di 5-6 centimetri, ecco, non di più, ok? Quindi teniamo tutto a portata di mano, iniziamo in piedi, ok? Io ottengo le cose qua, poi iniziamo in piedi, ok? Voilà, voilà. Io ho un sacco di pizzini oggi, cioè in quest'area ho cercato di nascondere tutti i pizzini e probabilmente dovrò anche leggere perché veramente non voglio perdermi nessuna informazione utile, vi voglio trasmettere un po' di cose oggi. Molto, molto bene. Allora, iniziamo la nostra lezione di Pilates sottile dedicata al meridiano di cuore. Cuore appartiene all'energia fuoco, nel corpo l'energia fuoco appunto è rappresentato dal meridiano di cuore ed intestino tenue. Come sapete, è vero che oggi parleremo principalmente del meridiano cuore, però il suo fratello, il meridiano fratello, è l'intestino tenue. Quindi mi capiterà comunque di citarlo perché comunque, ripeto, sono un po' espressione di una stessa energia. Iniziamo a posizionare il corpo semplicemente in piedi. Potete tenere chiusi gli occhi se vi è più facile portare l'attenzione dentro alle informazioni stesse che il corpo vi manda. Valutate come state, come vi sentite, come respirate. La parte diciamo più fisica legata anche, non so, alle appoggi dei piedi, all'allineamento della vostra schiena, del corpo, come vi sentite allineati. Eventuali fastidi a livello fisico e anche a livello più sottile. Il respiro è ovviamente il primo elemento che ci porta alla dimensione un po' più sottile. e poi anche davvero i pensieri, alle emozioni, allo stato d'animo, al senso di vitalità che avete, il senso anche di magari di agitazione o di ansia che si riflette proprio anche nella postura e nella respirazione. Cerchiamo ora di approfondire il respiro. Innanzitutto cercate di non coinvolgere le spalle quando respirate. Lasciatele rilassate. Quando inspiro, al termine dell'inspiro, sospendiamo un attimino, si entra in quella che è definita fisiologicamente, oltretutto in pausa, dopo l'inspirazione, la pennea inspiratoria. Contiamo mentalmente uno, due, tre, e quindi lascio andare il respiro. E anche al termine del fuori l'aria, senza necessariamente svuotare con forza i polmoni, lasciate questo tempo di tre secondi. Uno, due, tre. Quindi respira. Pausa. Uno, due, tre. E lascio. Uno, due, tre. Ancora. Questo è un esercizio molto semplice per amplificare quelli che sono i tempi di una respirazione comunque fisiologica. Per approfondire, ma anche per rilassarsi. Ora immaginiamoci immersi nel colore rosso. Il rosso rappresenta proprio l'energia a fuoco. Immaginate, ho un oggetto color rosso, se riuscite invece proprio a tinteggiare tutta l'aria attorno a voi, come una nebbiolina colorata di rosso. Definite proprio anche l'intensità del rosso. E cerchiamo di respirare questo colore. Insieme all'ossigeno, portiamo dentro di noi il colore rosso. E via via, di respiro in respiro, il nostro corpo si colora da dentro. Mentre mediti e respiri su questo colore, l'energia a fuoco rappresenta il terzo stadio energetico. Vi ricordate? Nel primo stadio di polmoni intestino crasso abbiamo definito i nostri confini esistenziali, proprio su un piano di membrana che ci circonda. Nel secondo stadio l'amebia, vi ricordate l'esempio dell'amebia come essere monocellulare, ha cominciato a sentire fame, un bisogno, che sia un bisogno di cibo, di pensiero, di idee, eccetera. E l'energia appunto di terra, vista la vostra scorsa, è rappresentata proprio dall'identificazione del bisogno e dal movimento che facciamo per raggiungere l'oggetto del nostro bisogno. E l'abbiamo fatto nostro mangiando simbolicamente il cibo, ma non solo. Ora entriamo nella fase in cui tutto ciò che abbiamo raccolto e considerate proprio anche tutte le informazioni che derivano dai cinque sensi, quindi dalle sensazioni, dalle emozioni, dal cibo, vengono portate appunto dentro di noi, una volta digerite diventano parte di noi. Ecco quindi che il cibo diventa sangue, diventa carne, diventa noi, anche le idee, diventano noi filtrate proprio e integrate. Questo porta a creare nell'essere umano, nel pluricellulare come nel monocellulare, proprio l'unità. L'unità che ci definisce come nome e cognome, la nostra identità spirituale, la nostra identità. Chi siamo noi? Grazie alla somma di tutte le informazioni che abbiamo ricevuto, sottili o meno sottili, le abbiamo digerite e sono diventate proprio parte di noi. Nel vostro nome e cognome. Molto bene. Ora, continuiamo con il primo test, sedendoci sul nostro tappetino, ci sediamo, così, con i piedi a preghiera, le mani attaccate alle caviglie, la schiena possibilmente diritta. Ora, se non riesci a tenere la schiena diritta, ok, ma ti ritrovi molto gombo così, metti un cuscino sotto al bacino, non troppo alto, è uno spessore. E da questa posizione, inspiri e nel buttare fuori l'aria, cerchi di scendere, tirandoti proprio anche con le mani, e ritorno. Attenzione al dettaglio, la prima discesa è dalle anche, ok, con la schiena, diciamo, vedi, diritta. solo nella parte finale, lasci scendere verso il basso, e poi ritorna. Continua, segui il ritmo del tuo respiro. Eravamo quindi al nostro colore, siamo immersi nel colore rosso, nella terza fase energetica, che è la nostra definizione, chi siamo noi, il nostro nucleo, tutte le informazioni sono state trasformate, unite per creare noi, chi siamo. Attenzione poi che la bellezza dell'energia cuore, e in generale di fuoco, è di creare anche unione, nel senso proprio tra le persone. Inizia a esserci una sorta di consapevolezza di chi siamo noi, ma quindi anche di chi sono gli altri, e quindi di comunicare attraverso il linguaggio, proprio verbale, la principale anche forma di comunicazione dell'energia, fuoco legata a cuore ed intestino. considerate infatti che in parte del meridiano di cuore, percorre e regola, comanda la lingua, che è proprio un pezzettino, un tratto sotto al mento. Ora prova a rimanere giù in questa posizione, prendi i piedi così e rilassati. In questa posizione che è una posizione di raccolta, di chiusura, di protezione della propria energia. Nell'ambito di intestino tenue e cuore, si considera l'intestino tenue come l'assaggiatore, che manda il cuore, la parte, la diciamo che, ma decide lui cosa mandare al cuore, perché il cuore va lasciato calmo e tranquillo nell'ambito della sua principale funzione vitale e di definizione di sé, nell'essere anche come essere spirituale. Infatti, ogni tanto ritornate se volete, l'energia a cuore è legata in parte all'emozione della gioia, ma soprattutto il cuore ci dona la pace e la serenità. Sarà molto rilassante questa lezione, perché è proprio l'energia che verrà diffusa nel nostro corpo. Molto bene. Valutate in questo momento, ragazzi, quanto vi scendono le ginocchia, quanto scendete naturalmente con il busto verso il basso. E quindi su. Molto bene. Ora cominciamo con una strecciata, soft, mi piace chiamarla, ok? Iniziamo a tirare le varie parti di questo meridiano. Una parte percorre proprio lo sterno e proprio, come vi dicevo, la base del mento, qui sotto, dalla gola al mento. teniamo le mani davanti alle spalle e proprio pensate, in realtà le braccia ci aiutano, ma di essere, come dire, tirati in su dal mento. Su. e tiro bene la linea che va dal mento alla gabbia toracica e scendo. Ancora due volte. Mi ossigeno. Tiro la linea dal mento, la gola, lo sterno. un'altra volta. E giù. Con l'aiuto delle mani ci solleviamo e ci mettiamo nella posizione sdraiati i supini. Potevamo anche solo girarci, in effetti. E adesso andiamo a lavorare la parte del braccio. Considera che il meridiano di cuore, nell'ambito del braccio, va proprio dal centro della scella al dito mignolo. Quindi la posizione in cui facilmente allunghiamo questo meridiano, che è poi la posizione di trattamento dello shatsu, è l'estensione del braccio, tenuto il più possibile vicino all'orecchio. Con l'altra mano prendo letteralmente il mignolo e provo ad allungarmi. tiro bene, tiro, tiro, tiro e lascio. Dall'altra parte, la mano destra, prendo il mignolo sinistro e mi tiro. Tiro, 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 tiro. E lascio. Ancora una volta a destra e ancora una volta a sinistra. Tiro, 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 tiro. Tiro, lascio, ultimo di là, tiro, 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 e lascio, molto bene, rientra piano con le braccia, adesso io mi sposto perché possiate vedere meglio il prossimo. Il meridiano di cuore, nella gamba, va proprio nella parte più interna, percorre parte del polpaccio, il gemello interno, e finisce, passa dietro al malleolo, proprio dove finisce il profilo del tendine d'Achille, transita dal tallone e ci finisce proprio al centro. Ora, per tirare questa parte della gamba, fate così, accavalate il piede destro sopra la gamba sinistra, quasi sopra la coscia, ok? Quindi non basso qui, ma appena sopra la rotula, e quindi lasciami scendere il ginocchio il più possibile, mentre cerchi con la mano sinistra di tenere giù il fianco opposto, senti che tende a sollevarsi. Quindi con la mano sinistra, quindi con la mano sinistra, tengo giù l'anca sinistra, e con la mano destra cerco di aprire un po' di più, premo giù il femore e la coscia destra. E quindi piano lascio e cambio. Fletto la gamba sinistra, tengo il piede flex, vado a metterlo proprio sopra il livello della rotula, e cerca di lasciarlo flex ancora il piede, viene abbastanza naturale tenere la caviglia così, anche per fare un po' di aggancio, volendo la gamba. Ho la gamba sinistra, giusto? Mano destra sull'anca destra, diciamo che tengo giù il bacino, do l'indicazione di tenere giù il bacino, con l'altra mano cerco di premere giù il femore e la coscia sinistra. Un altro respiro profondo qui. E piano tolgo la posizione, esco dalla posizione. Ora ragazzi ci servono le due palline, esatto. Iniziamo la parte dedicata all'automassaggio, iniziamo con l'area di diagnosi che nasce posteriore, che nasce proprio fra le scapole, visto che siamo giù, rimaniamo giù. Allora, ci dobbiamo, attenzione che può far male, fate con cautela, dobbiamo posizionare le palline più o meno a metà delle scapole, al centro la colonna vertebrale, tra le scapole e la colonna vertebrale. Mi appoggio, cerca di appoggiare la testa e rimani con le braccia aperte, anche in alto mi vanno bene, ma aperte così, non proprio vicino alle orecchie. Rimaniamo, facciamo qualche piccolo movimento per massaggiare quest'area, il resto del corpo si rilassa e dovete sentire che la parte corrispondente in avanti, quindi dell'area dello sterno, si va a distendere bene. Infatti, transita proprio di lì poi il meridiano, come via di cuore, sui lati dello sterno. Resto qualche respiro qui. Lascio fluire bene l'energia, sento l'apertura dello sterno, delle braccia. Considera un'altra cosa bella di questa energia che è rappresentata proprio da una fiamma del fuoco, che nel buio porta luce. La stessa cosa l'energia a fuoco fa dentro di noi, ci porta chiarezza, chiarezza di pensiero, di discernimento. Sia proprio per capire, sì, per capire le cose, ci porta alla consapevolezza, ci porta alla luce proprio per vedere dentro di noi, per definire bene chi siamo. L'aria che respira va proprio ad aprire l'aria del petto. Possibile sentire calore, ragazzi, perché l'energia a fuoco, eh, non a caso, genera calore. Molto bene, recupero le braccia, esco piano dalla posizione togliendo prima una pallina, poi l'altra. Metterò le palline qui da parte, passo sul fianco, mi aiuto a salire lentamente e quindi mi preparo in sesa. Seduta quindi sulle ginocchia, se non riesci metti un cuscino, puoi tenere un cuscino sottile fra i glutei e i talloni. E andiamo adesso a intercettare l'area di diagnosi anteriore, nell'area dell'ara. Mani puntate, vedi, seguo il costato, qui appena dove le costole arrivano, verso lo sterno, appena qui sotto, in questo triangolo, punto le dita, inspiro e nel buttare fuori l'aria mi curvo in avanti, rilassando bene l'addome, con l'intenzione di entrare un po' con le dita dentro a quest'area. Posso scendere fino ad appoggiare la fronte a terra o se senti meglio di entrare con le dita nell'area di diagnosi solo appoggiandoti con i gomiti sugli avambracci e sulle gambe, resta così. Le dita sono puntate, fanno qualche piccolo movimento per entrare. E un'altra cosa utile è pensare, più che fare forza per entrare con le dita, immaginate che le vostre dita si prolunghino e entrino proprio con il prolungamento. I tessuti si lasciano andare e penetrare di più. Continuo a respirare il colore rosso. E quindi, piano risalgo. Voilà. Ora andiamo a trattare la linea dell'avambraccio con l'autosciazzo. Continuiamo. Tratteremo il braccio, l'avambraccio destro, appoggiandolo a terra, ok? E lo tratteremo con il ginocchio opposto, eh? Ginocchio sinistro. Devo girare la mano in su, vedi? Panno della mano in su, ben aperto. Guardati la faccia che è rivolta verso di te dell'avambraccio. Di vedi c'è una linea centrale che sarà più avanti, mastro del cuore. La linea più esterna, che abbiamo già trattato perché diciamo è polmone, la linea più vicina a te è la linea di cuore. Quindi con la mano sinistra puoi tenere fermo il palmo della mano, eh? Che verrà dell'avambraccio trattato. E con il ginocchio tratti dal gomito al polso la linea più vicina a te. Quindi non è la linea centrale, ma la linea più vicina a te. Trattiamo tre o quattro punti fino al polso e quindi lo rifacciamo. Tac. Molto bene. Vieni su. Prendi con la mano sinistra il mignolo della mano destra e tiri bene in alto. Tirati proprio dal mignolo. Et voilà. Molto bene. Dall'altra parte, poi ci sarà ancora una parte dedicata al braccio. Avambraccio sinistro giù, palmo in su. Con la mano destra tengo fermo l'avambraccio. Linea più vicina a me. Parto dal gomito, direzione polso. E premo. Faccio tre o quattro punti. Ancora un giro. Voilà. Vengo su. Prendo con la mano destra il mignolo sinistro e mi allungo. E lascio. Gambia zeta. Destra avanti, in modo da visualizzare davanti a me il polpaccio destro, lo stinchetto destro. Ok? Guarda la linea. Anche qui definisci. Vedi la faccia del polpaccio, no? Una linea che taglia a metà. Una linea che è più, diciamo, verso l'esterno. E una linea che è più verso l'interno. Con i palmi delle mani, anche sovrapposti, tratti la linea un po' più vicino a te. Ok? Ti unisce la piega più o meno del ginocchio, transita dietro al malleulo, sul centro del tallone, esso arriveremo al centro del tallone sotto. Non è contro l'osso della tibia, eh? Lì c'era Milza la settimana scorsa. E ancora. La parte, diciamo, la linea più vicina a te. Devi sentire proprio la ciccetta del polpaccio. Arrivo dietro al malleulo e al centro del tallone. Bene. Prendi una pallina e tratti la base del tallone, proprio il centro sotto, appoggiando come fosse un tacco. E premi. E quindi cambio. Gambia a zeta dall'altra parte. Gambia a zeta con la sinistra avanti. Guarda la porzione di gamba da ginocchio a tallone. definisci una linea centrale. Prima la parte più vicina al corpo. Con il palmo. Vedi che ci porto proprio io il peso. fino al retro, dietro al malleulo e al centro del tallone. E ripeto. Intercetta la ciccetta del polpaccio e il, vedi il perimetro, come dire, del tendine d'Achille. quasi sul perimetro, dico quasi perché altrimenti non ci sarebbe pressione, centro del tallone, sulla faccia interna del tallone. e quindi anche qui andiamo a premere come se la pallina fosse un tacco. Molto bene. rimaniamo con le gambe a zeta, tornando con la gamba destra. Prendi ancora il mignolo sinistro e di nuovo lo tiri. Allungati bene. Voilà. Ora accompagna la mano dietro alla testa, vai con i premi, prendi il gomito e tiri un pochino. E vai con la mano libera dietro la schiena e cerca di unire le due mani. e piano lascio, cambio dall'altra parte, gamba sinistra a zeta avanti, mano destra che prende il mignolo, tiro il braccio su, mi sparisce la mano ma intuitivo, mi tiro e voilà. Porto la mano dietro la testa, vai a prendere il gomito e cerca di aumentare questo stretch. e quindi con la mano destra dietro la schiena, cerca di prendere la mano sinistra, aggrappati con i polpastrelli. Potrebbe essere che da un lato ce la fai, dall'altro no. e quindi lascio. Teniamo la pianta dei piedi a contatto. Agiremo adesso sullo stretch della gamba destra, in questo modo. appoggio la mano sul ginocchio, ok? Scarico il peso del tronco dietro, premo abbastanza vivacemente giù il ginocchio, raggiungi il limite, resta, per dieci secondi spingi sul ginocchio con la mano e impedisci l'areale risalita. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, lascia, inspira e adesso premi ancora più giù il ginocchio. Se vuoi spostare la mano più verso la coscia, fai più presa. Un altro ciclo qui, spingo in su la gamba. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, dieci. Togli solo la forza, respira e nel fuori l'aria, rilassa bene la gamba e l'anca. Prova a premere di più. Fai scendere bene, apri bene l'anca. Piano, lascio, cambio. Mi appoggio dietro con la mano destra, mano sinistra al ginocchio, raggiungo un primo step di stretch, schiena, tenta a non rimanere gommane. Dieci secondi spingo in su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Toglio la forza, tolgo la forza, respiro e nel fuori l'aria, premo in giù. Ancora, dieci secondi in su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Inspira, lascia la forza, rilassa completamente la gamba sinistra e premi più in giù. E piano, lascio. Separo le gambe e le divido, le divarico il più possibile. E cammino in giù, lascia le gambe possibilmente distese con i piedi a martello e scendi più che puoi. Più che puoi. Più che puoi. E ritorno, dovresti riconoscere spine, stretch forward, punto le braccia, prima mi allungo adesso con la colonna. Dieci secondi, pianto giù le anche, mi allungo dalla nuca. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E rilasso, poni proprio, cerca questo contrasto di tensione, nel senso che contrai bene i muscoli della schiena e poi al contrario li rilassi, ma cerca di lasciare bene rivolti verso l'alto ginocchio e i punti dei piedi a martello. Vai un po' di più. E quindi con le mani cammino a ritroso all'indietro. Molto bene. Unisco di nuovo la pianta dei piedi. Inspiro e provo a scendere. Vedrai che già adesso andrai più giù rispetto a prima. E giù. Fantastico. Ora passiamo ragazzi ad esercizi attivatori dell'energia. Quindi diamo, come dire, mettiamo benzina per far circolare più velocemente l'energia attraverso il meridiano di cuore. Li abbiamo stiracchiati per bene in tutti i punti, diciamo anche nodali, importanti. Stiracchiato, questo per, come dire, liberare il canale. E adesso lo carichiamo bene. Facciamo fluire più velocemente l'energia. In modo tale che, superati i blocchi, questa energia con tutto il suo potere vada a nutrire tutte le parti del corpo. Mantengo la schiena bene diritta. E voilà. Mi metto in posizione di seisa. Il cammello. In energetica questo esercizio si chiama il cammello. L'abbiamo già visto anche per polmone. Punto intanto i pugni, chiusi così con i palmi rivolti indietro, sui piedi. Per elevare, bene, in avanti e anche in alto, il petto. E scendo. Provo ad allineare bene lo sguardo al soffitto, in modo che il collo prolunghi la linea proprio della colonna. Arrivo a guardare quasi dietro, se il collo me lo permette. Andiamo ancora di più verso questo esercizio adattato al meridiano cuore. Attenzione, fatelo se ve la sentite. Una volta raggiunta la posizione di massima estensione, stacchi un braccio e lo porti in allungamento dietro. Ti ricordi lo stretching che abbiamo fatto prima in estensione vicino all'orecchio? Fai rientrare il braccio, prendi pausa giù e poi dall'altra parte. Quindi su. Raggiungi la posizione, stacca il braccio sinistro, allungati bene dietro. E scendi, lo riproviamo. Se non te la senti fai solo la parte iniziale. Apro bene le anche, apro bene il petto, stacca la mano destra, allungati. Bene, dietro, 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 dietro. E ritorno, ultimo di là. Raggiungo prima la posizione di apertura con tutte e due le braccia. Stacco il braccio sinistro, mi allungo. E giù. Molto bene. Ora, seduti. Seduta. Prendi la caviglia, con il braccio, la mano destra sotto alla gamba, in modo da raggiungere l'esterno della caviglia. A questo punto, coccolo la mia anca, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Cambio, non gamba, cambio la presa dall'esterno della caviglia all'interno. Vedi, prendo il tallone con il palmo rivolto all'interno. Da qui, appoggio mano e tallone appena sotto al ginocchio, mi butto all'indietro, mi appoggio sul gomito e cerco di aprire fuori la gamba il più possibile e quindi ritorno. Apro e ritorno. Il ritorno è guidato un po' dal tallone che spinge sulla mano, ne? Apro e ritorno, anche la mano di terra dietro ti aiuta un po' a completare la risalita. E voilà. Dall'altra parte, gamba sinistra, prima passo con il braccio sotto e prendo l'esterno della caviglia piede e faccio una coccola, si dice, una mobilizzazione dell'anca. Porto fuori il ginocchio e dentro e dentro. Fuori e dentro e dentro. Fuori e dentro. Fuori e dentro. Fuori e cambio. Prendo il tallone dall'interno, ok? Così, appoggio l'unione mano-tallone sotto al ginocchio e quindi mi vado all'indietro, mi appoggio sul gomito e cerco di aprire il più possibile la gamba. Torno spingendo con il tallone e con la mano di terra. E ancora, apro e ritorno, ancora, apro e ritorno, ancora, apro e ritorno. Molto bene. Intanto, prendetemi la fascia elastica e ci mettiamo a terra per eseguire qualche esercizio di Pilates. E anche, ah, non vi avevo detto, un foglio di carta. Un foglio di carta. Io prendo, o comunque, ragazzi, qualcosa di sottile che avete lì a portata di mano. Questa è veramente una cattiveria, questo foglio. Allora, mettiamoci giù. Prima di sdraiarci a tutti gli effetti, facciamo passare la fascia elastica dietro e la blocchiamo a terra con il nostro dorso. Prendiamo le estremità. Con il dorso devo schiacciare giù costantemente la fascetta. Allungo le braccia, rivolgo i palmi verso l'alto, lascio i gomiti un poco flessi, colonna ben appoggiata, tiro la fascia, ok? Non è questo, ma in allungo. Vedi che la fascia è, come dire, in una diagonale. Eseguiamo cinque molleggi inspirando e cinque molleggi buttando fuori l'aria. Va, inspira. Uno, due, tre, quattro, cinque. Fuori. 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 lungo il collo e ancora ossigenati bene e voilà, spila la fascia da tutto al corpo e vai a prendere con la fascia il piede destro e avvolgi bene quasi tutto il piede tallone compreso al limite escludi le dita aspetta che non vedi forse così è meglio sì vedi cerca di avvolgere di lasciare al limite fuori le dita ma buona parte del piede lo prendi con la fascia quello che ti chiedo è di extra ruotare la gamba dall'anca l'altra me la puoi lasciare distesa quindi non diritta così ma in fuori ho la gamba destra e tengo le due estremità con la mano destra ok devo proprio puntare il gomito qui diventerà punto fisso adesso dal tallone tiri in dentro la gamba e piano ritorno ok è un adattamento di one leg circles per andare ad intercettare il nostro meridiano sulla parte interna della coscia quindi è importante che non avvenga questo altrimenti non si crea tensione nella fascia ok punta il gomito quindi inspira e fuori torno inspira cerca di lasciare giù bene il bacino schiena ben appoggiata mento giù mi allungo ultimo e cambio preparo dall'altra parte avvolgi parte del tallone perché proprio diciamo dal tallone che devi andare a tirare e quindi hai una percezione migliore dell'esercizio quindi ho la gamba sinistra piede flex gamba in extra rotazione ok tengo le due estremità con la mano sinistra quindi gamba e braccia dello stesso lato il mio gomito adesso lo punto a terra resta punto fisso e dal tallone tiro la fascia e ritorno mantenendo ben fermo il bacino mento abbassata schiena giù il tallone è il primo ad esplorare la direzione attiro proprio l'elastico dal tallone mantenendo la gamba in intra rotazione uomito sinistro piantato a terra due volte ancora ultimo e voilà molto bene mettete da parte la facetta e prendete il foglietto di carta lo mettete fra i talloni le mani le potete mettere a sostegno del bacino frog le ginocchia sono leggermente le punte le punte le punte le punte dei piedi a v ok inspiro stendo stringi bene tra di loro i talloni polpacci l'interno delle cosce e torno inspira e fuori inspira aiuto il mio foglio addirittura scivola perché è una cartellina vai inspira no peggio ancora sarebbe farlo con la pallina da tennis te lo assicuro e puoi farlo anche se stai ancora cercando tieni magari anche la fascetta lo stesso l'importante è avere un oggetto che non deve perdersi durante l'esercizio molto bene mi fermo con le ginocchia tipo a 90 gradi e stringendo il foglietto faccio fare un circle dall'avanti all'indietro uno due stringi bene dai talloni tre quattro cinque schiena giù cambia il giro uno due tre quattro cinque cambia il giro uno due tre quattro cinque voilà lascio cadere mi alzo pian piano in piedi e fallo molto più lentamente di me io devo spostare per un attimo il punto di presa così ci vedete meglio una volta su ragazze prendete il libro il tomo che vi avevo chiesto di prendere ok e mettiamolo in appoggio così a terra ci dobbiamo mettere sopra i due talloni ok con la posizione av dei piedi ok appena appena separate le punte dei piedi devi sentire uniti i talloni ma separati i malleoli questa posizione intanto evidenzia bene l'appoggio dei metatarsi delle dita che in questo momento cercano di aprirsi bene giusto mantieni una buona postura e senti bene tutta la linea posteriore che va dai talloni polpacci cosce inspirando mi piego faccio un demi plie e nel fuori l'aria torno e stringo bene questa linea quando faccio dei demi plie è come se volessi crearmi da sola resistenza come se in realtà non volessi piegare e poi fuori l'aria stringo forte in e in 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 ultimo voilà togliamo il libro e torniamo in posizione di quadrupedia oggi mi sa che la lezione è un po più lunga posizione di quadrupedia mani sotto alle spalle schiena diritta ok guarda come modifico la posizione delle braccia intra ruota un po appena appena così ora con la schiena che rimane diritta come una tavola mi piego facendo andare in fuori i gomiti e su 1 su 2 su 3 su 4 su 5 fai scendere bene il petto verso le mani e la schiena vedi che scende come una tavola non devo mollare la tenuta dell'addome 8 9 10 voilà giro in parallelo le braccia spingo i gomiti adesso ben indietro 1 stendo 2 stendo 3 stendo 4 stendo 5 stendo 6 stendo 7 stendo 8 stendo 9 stendo 10 stendo allungo prima una gamba e poi l'altra raggiungo la posizione della panca frontale schiena diritta 5 volte piega i gomiti 1 su 2 su 3 su 4 su 5 su giungi in occhio giù quell'altro gira i palmi all'indietro gira i palmi all'indietro e faremo i 5 piegamenti dalla posizione della panca frontale quindi stendo una gamba stendo l'altra mi piego i gomiti vanno fuori il petto scende 1 su 2 su 3 su 4 su 5 su 1 2 e sciolgo i polsi molto bene rimaniamo seduti gambe incrociate allungati bene con la colonna in alto respira profondamente rimani connesso al colore rosso con la lingua a boc a boc a labbra chiuse però non serrate i denti con la lingua percorrete il palato dagli incisivi alla alla gola diciamo ok avanti indietro cinque volte ok adesso da destra a sinistra bene adesso faccio con la lingua la punta della lingua dei cerchi sul palato 5 in un senso 5 nell'altro dall'altra parte respira ora premi la lingua contro il palato e rilassa ancora e rilassa e rilassa e rilassa ora pensa di serrare forte forte le labbra con la lingua esci e ancora, serro forte le labbra ancora due volte ancora, bellissimi eh ora pensa con la lingua di dare come il burro cacao alle labbra ma da dentro labbro inferiore burro cacao con la lingua all'esterno facciamo 5-6 volte il labbro superiore e 5-6 volte il labbro inferiore sotto ora lascia la bocca aperta e vai con la lingua sul piano orizzontale il più in fuori possibile e ritorno due volte ancora molto bene non ti aspettavi gli esercizi per la lingua che è governata anch'essa da muscoli e anch'essa dal suo meridiano quindi fate affiorare le cose che sono ferme lì nella gola e usate l'energia del cuore per esprimerle e per comunicare unisco la pianta dei piedi mani alle caviglie inspira e ripeti lo stretch vedi quanto scendi di più rispetto a prima sposta le mani io scendo veramente di più senza forzare guarda io scendo tocco quasi con la fronte ai piedi senti il calore nel petto e quindi facciamo proprio tesorio di questo calore lo diffondiamo in tutto il corpo e non è solo per noi questo calore ma salendo alla gola e uscendo con il linguaggio e con la comunicazione legata al cuore la diffondiamo e così siamo più uniti vi abbraccio vi ringrazio e vi aspetto presto a presto ciao